Ciao, volevo lasciare questa piccola testimonianza sul corso gratuito di Naturopatia Taoista di Matteo Sabatini e sono qui fuori dove appunto stavo praticando alcuni degli esercizi del corso e mi sono piaciuti molto, li ho trovati molto interessanti e in questo minicorso veramente ho trovato tante informazioni utili sia teoriche che pratiche da applicare e sto cercando appunto di praticare questi esercizi e effettivamente si sente subito qualcosa di diverso quindi grazie mille Matteo perché veramente c'è qualcosa che si può praticare subito e di cui si possono sentire gli effetti, i benefici è un corso che regala veramente qualcosa e spero di poter seguire altri corsi sia gratuiti che presto a pagamento anche online perché sono in Toscana, non siamo tanto vicini e quindi grazie mille per il corso molto interessante grazie, ciao!